Dopo anni difficili, almeno gli ultimi nove, nel corso dei quali si era riusciti a fare qualche passo in avanti in termini di redditività delle imprese e di riduzione del loro indebitamento, è arrivato il coronavirus a far precipitare di nuovo la situazione in Sicilia. Sono queste alcune delle sostanziali conclusioni contenute nel report annuale di Banca Italia, i cui esperti stimano che misure di distanziamento sociale e chiusura delle attività nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica nazionale e regionale. Secondo il report, nella prima parte del 2020 l'attività produttiva ha subito una contrazione significativa a causa del diffondersi della pandemia e oggi almeno il 25% delle aziende rischiano la chiusura, avendo dovuto fronteggiare un drastico calo delle domande interne che ha determinato una marcata riduzione dei ricavi attesi, soprattutto nel comparto dei servizi privati non finanziari. Insomma, la Banca d'Italia preferisce parlare chiaro, i suoi esperti arrivano a dire che il peggio deve ancora arrivare, le statistiche rivelano poi che le famiglie avrebbero dimostrato di poter resistere di più grazie ai propri risparmi, anche se le prospettive confermano una vulnerabilità significativa con una disuguaglianza di redditi da lavoro aumentata e un aumento sostanziale di disoccupati e inoccupati. E si annuncia più che critica la situazione anche per i comuni siciliani, molti dei quali già in crisi rischiano di vedere aggravata la loro situazione proprio a causa della pandemia, con conseguenze tra mancati trasferimenti da parte di regioni e Stato e aumenti insostenibili delle anticipazioni di cassa che potrebbero essere nefaste.